Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco, che deve essere Francesco, in lingua sarda, perdonami per sboccare di te, che ho detto tutto le frieze, oggi sono anche pro-christianare il sardo, come dicevi come in testa e come in testa nella lingua nostra. Poi ho chiesto di risolvere il numero, magari tra le nizze, finissimi in Sardinia, bintata, pro-di una cantina di ato, e ho detto che te, che sono un pacco di riferente, che ha detto nessuno, che ne sono sempre per turchese. In attesa di tutto, in superiore il sardo, fa che te ne riesca di una cosa che stai in porto umano. Punto primo, su Sardinio non è l'italiano. Finse se non Sardinio si prepara per risultare la politica, su Sardinio si trova che muovere il latino è solo, e che tante tibiriche, che si italiane, sono tessere su tedesco e che si inglese. Due o lingua romana sono una, due o lingua germana sono altre. Ma per i gente, l'inviste su chi narra, su Sardinio, la lingua è per la cura del latino antico. In Sardinio, le manaschie Pasche in Sardinia, quando si sono romano, si è neppicau, si è sulla nostra, e i suoi tempi sono una chiesa, hanno scritto trovalo sui cabbale, come intesa carta del loco dei suoi militari che è intorno a Vandaduoso, la contrazione del padre sardo che è stata durata finessa sotto i cinti. Volevo proseguire che vi l'ha fatto sopravvivere e si può inserire il suo catalano e il suo spagnolo. Che non so se voglia, se ne ha però piccolo la Sardegna, ha cominciato a travolare per l'eternizzare. E questo si può dire finessa dei suoi numeri che hanno attento Bidza, Montese, Carrerasa, Pratese, Cantubatta, ma era finessa come l'italiano che hanno superato i suoi menti come intesa di narrava nel sardo originale. In un nuovo weekend, osa Vaina provocare a maniera che il suo sardo se era in italiano, se succhia il progetto, il suo fascismo per il suo sardo che in forza c'era per l'umana. A Durumano, finessa Repubblica, per un malattempo, non dava mezzo. Il suo mastro piccava una corposa, sorti scantese, quando lo scassava la fattenda nel sardo intorno all'istoso, oppure dispone una multa che ripiena a pagare il suo parentese, spingendo a mezzo dell'istoso, a mutare il suo pavento o a sinchiestare la sua muda e a sinne faccare la vergonza. Il suo sanor 90, non com'è, se faccio una lezione dove si riconoscono i due chi l'imbasa come il suo sardo, l'imbasa di minoria, dentro l'Italia. Sto non passo in antici che ne duta. Lastima chi, franculo tra l'imbasa che è l'Italia, amparra da Beu, promuovere le trattazioni internazionali, però il suo sardo questo non riconosce il mitopoio che è in sostanza. E magari si viene finito troppo tardi. Ognanti è bene tutto qua in Sardinia, intendo che l'icolo non è così in sardo, perché in Italia non può essere come tapingare la lotteria. Finché, in Carrippietta in centrale, è toccato l'amica che è riuscita a tenere sempre io. Poi, se resta l'isola, questa gente non ha chiesto una prusa che o non dice che ne ha preso una paraguola, o mai, oppure non ha detenuto la vergonza. A me è stato durmando, che è una posta in conca, che è usato tanto in limba russa, non civile, malcomprendere, che non ha la vita nuda, e che chieste cosa è una popola da pendone, se chi può le civilizzare o come è la sua scontinentale. L'adino è che non ha preso Gai, ma a dell'umano è una sardosa montona, che tenere a calo questa materia di Dali, in sopra di sostotto. In pruso, basso fatto che se l'imbattenete, metterli in basso, che si può ne comprendere a pare, a soli credere uno, che su sardo lo conoschete bene, come te si toccata, però a dell'umano questa è come sardina una minoria. Cosa che non è sta a favore suo? Dego, non credo e non discopro tanto tempo su su sardo, a accampare, goi morri morri in questa situazione, come te una pranta sicca, appunto risica a morrere, che nemmeno solitato a procara, che in duri potere abba. Dego, credo che il suo sardo, sia per una parente alla sua porta nostra, e il sarezza, un utrasto che non si può permettere, di promuovere, proprio così che potremo, se allega il suo terra nostra. Mi piacchete a pensare, che tenere un pessimismo dell'intelligenza, e ottimismo del volontario, come internava sul sardo Gramsci. Attivi, sardo o il stranzo, che magari ti puoi piaccare e interessare, salimba, salportura, e il suo terra sarda, grazie a me, da Svartotto. Adioso, e impacche.